In queste due settimane ho intenzione soltanto di arredare la mia nuova casa e di organizzare la mia nuova vita. Mi devo raccontare una strada speciale. Se non ha intenzione di farlo lo farò da solo. Pronto? Pronto padre? Padre mi senti? Se tu non vuoi più il nostro aiuto, io me lo posso anche andare. No! 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 Matrivi! Qual è Antonio? E' un paese piccolissimo e si trova vicino ad una cava. Vicky dove sei? No, non crederci a trovare chi è il parcheggio. Secondo video, non so più dove cazzo siamo! No! Vicky ma... Che spistare che c'è questo? Perché c'è il filo spinato? Non lo so perché c'è il filo spinato! No! Non sto volendo di farlo! Alla fine... Eccoci qua tutti insieme.